allora lo so che non siamo tutti in aula ma diciamo abbiamo fatto 20 minuti di pausa non possiamo aspettare di più comunque c'è la registrazione io vi direi due parole sull'esame ma in realtà proprio brevissime in realtà facciamo tanti accenni durante il corso all'esame come contenuto cosa c'è da consegnare come bene sviluppare il progetto eccetera sul sito web come sapete ci sono già le regole d'esame ci sono dall'inizio del corso e non ne abbiamo cambiate sono sempre quelle quindi leggetevele bene con attenzione se avete dei dubbi sull'inglese qualcosa che non capite chiedete ci sarà da consegnare un progetto che sarà sviluppato 20 scusate assegnato 20 giorni prima tutti possono guardarlo leggerselo decidere se vogliono consegnare o no si può anche consegnare e semplicemente non venire all'orale ovviamente uno poi deve fare un altro esame però tutti hanno la possibilità di leggere i temi d'esame noi li pubblichiamo manderò di solito mando un avviso quest'anno abbiamo il telegram manderò su telegram c'è il nuovo tema d'esame per il nuovo appello ovviamente interessa solo a chi non ha ancora dato l'esame va bene al primo appello tra il primo appello e il secondo appello ci sono solo 14 giorni 15 16 qualcosa così questo non mi ricordo esattamente le date purtroppo non sono più distanti quindi questo significa qualcuno me l'ha chiesto il laboratorio significa che il tema d'esame del secondo appello sarà pubblicato prima della scadenza della consegna del primo appello questo è un po' un vantaggio o uno svantaggio nel senso che chi vuole provare il primo appello a dare l'esame va benissimo si fa il primo appello diciamo che prima di consegnare la possibilità di leggere il tema d'esame del secondo appello ok se ritiene di poter fare meglio il secondo appello rispetto al primo può decidere di non consegnare di consegnare ugualmente di non venire all'orale poi magari ce lo fa solo sapere ma più che altro per organizzare gli orali noi va bene qualsiasi cosa la questione è che se venite all'orale quindi se spendiamo i nostri 20 25 minuti sperabilmente non 30 minuti perché vuol dire che non va tanto bene forse nell'orale chiaramente vi assegniamo un voto ok il senato accademico adesso ha deciso che è rifiutabile a prescindere dalla volontà del docente per cui avrete il voto lo registreremo sufficiente o non sufficiente di solito sono sufficienti perché insomma se consegnate pensate di aver fatto qualcosa di ragionevole e pensate di poterlo spiegare quindi il voto è rifiutabile perché l'ha deciso il senato accademico ma l'avevamo deciso anche noi comunque quest'anno anche perché non lo sapete fino a che non venite all'orale quindi non potete decidere prima decidere qualcosa riguardo prima vi faremo vedere come funziona la consegna quindi adesso abbiamo ancora un po' di tempo però pubblicheremo delle istruzioni più tecniche su come funziona il meccanismo di consegna che avverrà tramite il github classroom che è una specie di sito web che si avvale di github nel quale dovete accettare l'assignment se volete diciamo partecipare all'appello vi verrà creato un repository privato vostro che potrete vedere solo voi e noi docenti sul quale dovete caricare la soluzione quindi fare un commit e un push solo della soluzione noi basta la soluzione e poi ci saranno le istruzioni mettere un tag con scritto file come ci sarà scritto nelle istruzioni per dire che volete consegnare se no non possiamo distinguere tra quelli che semplicemente hanno clonato il repository ha messo due file e quelli che effettivamente intendevano consegnare dovete poi fare l'orale faremo un calendario al primo appello tipicamente ci sono in questo corso vista la storia e visti i numeri ci sarà circa un centinaio di voi quindi circa un po' di più un po' di meno non lo so se diamo una cosa semplice o difficile però per noi è difficile valutare se è semplice o difficile potremmo essere un po' di più un po' di meno non lo so saremo presumibilmente in due cioè io e il mio collega Servetti a valutarvi all'esame presumiamo 20-25 minuti ciascuno e considerate non so 8 ore al giorno quindi ci andranno dai 3-4 giorni a svolgere tutti gli orali dovremo trovare delle aule il primo giorno avremo un'aula prenotata non riusciremo a fare il mattino del primo giorno probabilmente perché dobbiamo cioè la consegna la sera prima quindi dobbiamo mettere sul server e vedere che funzioni in cui ha consegnato eccetera quindi presumibilmente inizieremo al pomeriggio ma questo ve lo confermo poi successivamente abbiamo comunque il canale Telegram sul quale metto avvisi e cose c'è una domanda? i giorni in cui ci sono gli orali presumibilmente consecutivi però dipende perché tipo io ho un altro corso di cui devo fare gli esami ci sono i nostri colleghi che vorranno fare l'altro esame e altri colleghi pure eccetera non dobbiamo andare in parallelo con gli altri corsi non fa nulla però dipende un po' dalle disponibilità nostre dei docenti e delle aule perché dobbiamo trovare delle aule per fortuna non ci serve un'aula particolarmente capienti chiunque è libero di venire a sentire gli orali anzi io invito tutti a venire a sentire qualche orale chiaramente chi passerà per primo sarebbe un po' più buoni non lo so però insomma sentite qualche orale uno si può fare un'idea di come funziona l'orale non c'è nulla di segreto potete venire a farli a sentirli ci mettiamo io, il mio collega Servetti e uno di voi di fianco gira sul nostro computer come è scritto qui sotto quindi noi avremo caricato sul nostro server Linux vi mettiamo a provarlo su Linux Apple Cabine Server Linux quindi fare attenzione al case degli import dei nomi dei file e così via e lo proviamo a livello di funzionalità arriva eh a livello di funzionalità e poi discutendo un po' del codice in cui ovviamente voi dovete orientarvi e spiegare le scelte che avete fatto ok per assicurarci che uno l'abbiate fatto voi se ci sono cose strane e malfunzionamenti possiamo discutere e capire cosa avevate in mente di fare magari perché non funziona o perché funziona perché funziona bene e così via c'era una domanda vero? sì l'ordine degli orali l'ordine degli orali di solito lo decidiamo un po' a caso nel senso che io visto anche l'esperienza degli anni scorsi facciamo un calendario però un calendario di massima nel senso che io capisco che voi avete altri esami cerchiamo di non andare in sovrapposizione con gli esami proprio diciamo di questo anno e semestre io do un po' un'occhiata quando sono però se tutti fanno come noi tipo abbiamo gli orali su tre a quattro giorni è chiaro che è difficile no? gestirli un po' tutti però diciamo non siamo così stretti dal punto di vista dei turni se fate dei cambi tra voi perfetto se non potete fare dei cambi scrivete un email scrivete su telegram magari dicendo c'è qualcuno che può fare il cambio con me e così via è chiaro che come dire cerchiamo di fare in modo di venire incontro un po' a tutti è sessione di esami per noi ma anche per voi ok? quindi facciamo un calendario di massima c'è chi ha il problema un giorno e magari non ce l'ha un altro e viceversa se poi becchiamo questa fortuna il giorno in cui tutti quanti avete il corso obbligatorio e c'è l'altro esame vabbè modificheremo il calendario ok? se abbiamo sbagliato così di brutto diciamo ok? cosa volevo dirvi ancora? ecco il tempo dell'orale è un po' variabile dipende anche un po' da come uno ha fatto il progetto se funziona tutto funziona tutto il primo colpo è chiarissimo è fatto come ce l'aspettavamo funziona tutto bene si guarda il codice rispondete perfettamente velocissivamente magari in un quarto d'ora finiamo se arriva uno che non funziona il codice è una cosa proviamo non va bisogna riprovare non aveva fatto l'import corretto bisogna riportare qualcosa e così via magari anzi che un quarto d'ora ci metti a mezz'ora la media è sui 20-25 minuti ve lo dico già non in cui voi dovete continuamente parlare ma un po' dobbiamo avviarlo fare fare le prove quindi faccio un po' di prove più o meno come faccio con tutti come faccio io e farà il mio collega secondo il tema d'esame proviamo a dare un'occhiata diciamo a come funziona l'applicazione c'è da creare un oggetto cancellare entrare con un altro utente queste cose qua facciamo un po' di prove funzionali se c'è qualcosa che non va ne parliamo e poi diamo un'occhiata al codice e daremo un'occhiata anche alla documentazione che voi produrrete sarà un file readme abbastanza standardizzato dove ci sarà da descrivere le API che avete fatto sul lato del server i componenti principali e come sono fatte le tabelle del DB perché ci dà un po' l'indicazione di che cosa avete pensato per risolvere il progetto che è stato assegnato come esame ok ok quindi tra un po' oramai tra due settimane dovremo pubblicare il tema d'esame del primo appello ma saremo già a buon punto col corso e comunque pubblicheremo stiamo rifinendo pubblicheremo anche le istruzioni tecniche che vi diranno come fare per la sottomissione ok non abbiamo bisogno che voi usiate il github se non per fare la sottomissione ok quindi voi potete lavorare dove volete non ci interessano tutti i vari commit non scrivete parolacce che non è mai bello ma per voi perché poi non si possono cancellare i commit ma comunque noi non andiamo a vedere la storia dei commit noi prendiamo quello l'ultimo di solito taggato final come scriveremo nelle istruzioni quello proviamo punto e basta ok se voi volete usare il github vostro per sviluppare bene se volete fare da parte copiare tutto e consegnare solo quello va benissimo lo stesso l'importante è che consegnate tutto e non vi scordate nessun pezzo quindi dopo che avete fatto la consegna provate a fare il check out su un nuovo computer cioè un nuovo sistema ma lanciarlo verificare che tutto funzioni così che non vi siate scordati di consegnare nulla ma questi sono consigli di carattere generale indipendenti diciamo dall'esame in tutti gli esami in cui c'è da consegnare qualcosa bisogna fare un po' attenzione ok quindi direi che vi leggete con calma le regole d'esame se ci sono dubbi o domande io torno la prossima volta su questo argomento se no attendiamo di avere le istruzioni e possibilmente magari il primo tema d'esame ecco mi è stata chiesta una cosa nell'intervallo che ci tengo a precisare poi andiamo sul codice qualcuno ha detto ma io devo chiamare le sette qui sotto nello stesso ordine in cui ho dichiarato gli use state di sopra no non c'entra nulla ok mi spiace se ho dato questa impressione prima l'unica cosa che bisogna fare è chiamare le use state sempre nello stesso ordine ma questo è facile perché se noi scriviamo il componente mettendo le use state le use effect in cima all'inizio e non usiamo if for while questa condizione è automaticamente verificata ok poi le sette le usiamo al bisogno secondo la logica della nostra applicazione come riteniamo debbano essere usate nei posti dove dobbiamo usarli ok ok abbiamo precisato questo aspetto allora direi che possiamo andare a fare un po' di coding ci tengo a fare il coding più che altro perché così vi rimane e sapete cosa fare in laboratorio potrei farvi vedere la soluzione commentare la soluzione però diciamo si perde un po' il ragionamento che dovreste fare per sviluppare l'applicazione perché poi per l'esame siete da soli avete il progetto dovete partire da zero pensare all'API pensare a come strutturare l'applicazione i componenti e come organizzare gli stati le root e così via ok quindi io cerco di farvi vedere il ragionamento per farvi capire quali sono le scelte che stanno dietro alla creazione dell'applicazione e vi invito a intervenire se avete idee diverse perché così le possiamo valutare allora prima abbiamo messo il nostro loading ah potevo anche fare il commit vabbè facciamo il commit così intanto ripassiamo come si fa il commit eh commit si prendono i file che ci interessano che era questo no server ah si vabbè ho cambiato anche il server perché c'era oppla questo e e l'altro qual è l'ultimo solution answer root vero si ho messo il loading ok il commit lo potete fare anche per l'esame da visual studio da qualsiasi cosa esempio loading ok così andiamo avanti e non sporchiamo il codice va bene allora noi abbiamo bisogno adesso di implementare qualche funzionalità cominciamo dalle più semplici dalla più semplice io vi farei iniziare dal da questa il bottoncino che fa l'app vote ok che chiaramente funziona già però funziona localmente non sta scrivendo sul database se io apro il network qui sotto no non succede nulla quindi se io ricarico l'applicazione si resetta il valore che c'è sul database ok quindi adesso colleghiamo questo bottone al database poi colleghiamo magari il vabbè vediamo qualcosa allora come faccio uno deve avere l'api io vi ho detto devo scrivere la fetch per andare a fare l'operazione sul db allora primo deve esserci un api sul db quindi deve esserci una root sul db ma la root sul db l'abbiamo creata l'altra volta dov'è la root sul db forse non l'abbiamo fatto proprio in aula ma se voi avete visto ciò che vi ho messo online c'è una vote answer api answer id vote che è un post perché modifica lo stato sul server e non è idempotente qualcuno l'ha scritto sul telegram qual è la differenza tra post e put che se faccio una post se la rifaccio faccio una modifica ulteriore sul server se faccio una put mi aspetto che se rifaccio la stessa put se nel frattempo non l'è cambiato il server rimane uguale come dati quindi il db non cambia ok questo non è il caso della put qui perché perché ogni volta che la chiamo faccio più uno quindi se la chiamo due volte faccio più uno più uno una put invece mi setta un valore non è che mi va a fare un calcolo ok va bene post questo è il body vote up vote quindi è fisso così devo fare in modo di chiamare questa api e vedere qual è la risposta quindi se mi da duecento duecento uno va bene ok allora la scrivo ovviamente non inventate nulla e qui avete già le altre api dunque noi andiamo a prendere una boh cosa vado vado a prenderla di qua perché così poi vi metto online le cose corrette l'ho fatta con col punto den a me piace un po' di più il punto den della weight ma non fa assolutamente nulla ok allora adesso faccio cosa è capitato allora add no non è add answer perché add answer vote answer questo nome lo scelgo io l'editor me lo suggerisce perché io ho già messo un po' di file con le soluzioni qui dentro ma solo sul mio computer quindi scegliete voi un nome questa chiamerà una post me lo scrivo quando non è una nugget scrivetelo così ve lo ricordate post answers id vote no perché questo era ciò che io avevo answers id vote ecco vi faccio vedere giusto per provare no non faccio una funzione async ma faccio un return o new promise così scriviamo qualcosa di diverso poi voi vedete potete farle come volete anche un misto però non so ci sarà qualcuno a cui piace di più una cosa più un'altra come avevamo scritto cos'era il terzo laboratorio quello col database forse il secondo return new promise promise resolve reject reject quindi qui si va a capo e funzione questa è una funzione freccia aperta chiusa graffa e adesso devo fare la mia fetch no quindi potrei non scrivo response await potrei anche fare così però devo ruapparla e non funziona async se sto facendo così è perché non voglio usare la funzione async se no andava bene scriverla come sopra quindi prendiamo la fetch quindi facciamo fetch url questo era answers answers id vote ok occhio questa è una post devo dire che è una post quindi nella fetch devo creare un oggetto quindi l'oggetto lo creo aprendo e chiudendo graffa dunque method uguale ah no due punti scusate post virgola poi togliamo poi cosa devo mettere il headers giusto che in realtà non c'era sulle slide magari lo facciamo aggiungere headers headers è un oggetto c'era sulle slide della fetch content type virgolette però in realtà forse non c'è bisogno però fa niente application json questa roba è tutta da scrivere tutte le volte che voi avrete qualcosa che non è una get perché se avete un body dovete scriverla quindi la scriviamo una volta poi faremo copy and colla per gli altri metodi add delete e così via ma il delete non ha il body però vabbè body e cosa mandiamo nel body dobbiamo mandare un json con quello che abbiamo visto prima ce l'abbiamo definito qui vote up vote potremmo mandare direttamente la stringa visto che questa è fissa però non mi piace onestamente e così scriviamo anche del codice che è un po' più riciclabile json stringify e che cosa? di cosa? di un oggetto che è vote due punti up vote il primo è una proprietà e verrà messa tra virgolette automaticamente dalla stringify perché nel json è tutto tra virgolette per le stringhe ok quindi qui abbiamo fatto la fetch ok questa è la graffa della fetch salvo un attimo per non che non si perda il file e poi e poi allora se ho scritto le cose in questa maniera la fetch ritorna una promise punto den per sapere quando finisce e cosa devo mettere? una callback no? una callback cosa prende? la callback del den prende il valore della promise risolta con successo fulfilled no? quindi se la fetch ha avuto successo mi passa come parametro la risposta response no? che è ciò che mettevamo qui nell'uguale della wait voi direte mi piaceva di più la wait va bene fate la wait volevo farvi vedere una diversa ok e poi scriviamo del codice come prima io cerco di scrivervi del codice che gestisca già un po' di errori così non diventate matti a provare a scrivervelo voi con l'API le API sono abbastanza meccaniche definite l'API lato server no? questa è una cosa che fate prima scrivete le root server e l'API sul client che le usano no? e poi il resto la cosa più difficile è scrivere poi l'applicazione quindi qui più o meno sono tutti uguali response punto ok allora cosa faccio? in realtà ecco che cosa faccio qui? che cosa faccio? devo leggere qui response c'è il body? no quindi non ho un body non è che devo fare response.json non ci sarà un body bon finito è andato bene tutto bene come faccio a comunicarlo a chi mi chiama che è tutto bene poi se è una promise la risolvo con un valore qualsiasi e tanto l'importante è distinguere se la promise è fulfilled o rejected giusto? quindi resolve mettete il valore che volete va bene anche null non lo so quello che volete undefined virgolette vuote quello che vi pare tanto non lo useremo questo valore perché non c'è una risposta a questa api da parte del server nel body ok e se c'è un errore io lo trasformo in una promise rejected lato client nell'api ok quindi else else poi ci metto tutta la gestione degli errori quindi io questa ve la copio e incollo perché è un po' più macchinosa ed è un po' come dire fatta una volta fatta per sempre quindi gli diamo un'occhiata dov'è che ho messo solution api quindi questo non ce l'avete lo uso per copiare dove è andato add bot ecco facciamo così quindi api api adesso devo fare attenzione a tutte queste graffe che girano poi le mettiamo a posto il codice di sotto mi serviva come guida ma non l'ho usato più di tanto adesso vediamo che cosa come come messo format quindi else else potrei fare anche reject arrivederci però poi se nel reject non ci scrivo nulla non so mai cosa è successo ok è una domanda sì 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 l'attesa la gestiamo perché dice l'attesa sì 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 dovremmo gestire l'attesa dovremmo gestire l'attesa solo che qui l'attesa sì ma la gestiamo dopo la gestiamo sì sì quindi la sua domanda è scusa la gestione dell'attesa sì c'è ma noi stiamo ancora scrivendo l'API la gestione dell'attesa è in app nell'applicazione cioè noi non abbiamo ancora chiamato questo funzione quando la chiamiamo gestiamo l'attesa poi riserve nel badino restituisce nulla questo è quello che abbiamo scritto nelle nostre specifiche come l'abbiamo implementato opla sì sì qui non avevamo nulla da dire nel senso che o va o non va ecco se non va in effetti in effetti potevo scrivere qualcosa di migliore qua non ricordo cosa fa server possiamo andare a cercarlo però il server lo decidiamo noi cosa fa l'abbiamo fatto l'altra volta o meglio forse l'ho fatto io non l'abbiamo visto insieme no quindi in realtà in realtà vedete come è facile sbagliarsi qui nel body rispondo il numero di righe cambiate però diciamo che siccome se c'è un problema io dico che non cioè cambio lo status code allora questo è il 200 diciamo di diverso rispetto alla readme cioè che qui ho messo il numero di righe cambiate quindi in realtà readme body dovrei scrivere numero di righe cambiate uno ok però se decide di ignorarlo lo stesso il null è interno alla mia applicazione cioè il null sono io che sto ricevendo la risposta se io voglio la risposta dal client devo scrivere response json ok dal server scusate dal server devo scrivere il response json perché se no non me la posso portare dentro come oggetto ma poi cosa dico con resolve reject sta a me come sto scrivendo api la funzione qui in api quindi questo è un altro strato e tra api e la vostra app tra l'api e il server e quello che avete deciso voi e che sperabilmente avete seguito non come ho fatto io che in realtà ho scritto niente e poi in realtà rispondo un numero ok poi magari lo sistemiamo quando c'è un errore dovete decidere come gestire l'errore allora se il server è cortese magari vi da una qualche indicazione no come così status 503 c'è stato un problema col db che non è una grande indicazione però almeno c'è qualcosa oppure magari avevamo fatto la validazione e per esempio possiamo mandare indietro un oggetto con la validazione cioè l'oggetto di risposta alla validazione l'id non era un numero ok allora metto indietro 422 con un oggetto json quindi c'è un body quindi in realtà se io volessi scrivere perfettamente questo readme dovrei scrivere non o meglio qui in realtà avevo fatto un numero se 201 oppure json con un oggetto fatto così se 503 oppure json con un oggetto fatto così con 422 ok ora cerchiamo di non diventare di non diventare troppo matti con questa gestione degli errori che va bene un pochettino va bene anche per l'esame un pochettino diciamo che il nostro focus non è avere la gestione degli errori perfetta ok il nostro focus è avere l'applicazione ben fatta ben funzionante che gestisca gli errori in maniera ragionevole non è il caso di gestire tuttissimo oppure magari si prova a fare su uno comunque noi vi diamo un template abbastanza ben fatto che voi potete semplicemente riciclare ok perché perché non è tanto il nostro interesse però è carino avere un messaggio di errore quando si verifica un problema certi saranno obbligatori nel senso che per esempio la prossima volta facciamo il login se io faccio il login con lo username e passo sbagliato non me lo dite non me lo scrivete questo è un problema se invece faccio un'azione c'era il server spento e non funziona vabbè insomma vedremo come valutare il progetto all'esame ma non è per quello che perdete punti tanti punti se il resto è fatto proprio male vabbè diciamo contribuisce alle impressioni del mal fatto però diciamo se tutto il resto è fatto benissimo non è solo quello che vi crea il problema diciamo del progetto soprattutto se sapete spiegarlo bene e così via ok comunque diciamo che noi qui facciamo un minimo di gestione degli errori ipotizziamo che se c'è stato un errore quindi non c'è un codice della serie 200 ci sia sempre un oggetto json che ci dice cosa è successo e noi lo prendiamo e lo passiamo come valore della promise rejected ok quindi io faccio se c'è stato un qualcosa che non è il 200 vado nell'else respond json se va tutto bene message reject message message è l'oggetto che è la conversione del json che mi è arrivato dal server ok perché ho fatto il response json catch catch su json e non riesco ad interpretarlo come oggetto json oppure c'è ancora il catch qui fuori del fetch che è l'errore di comunicazione abbiamo detto che la fetch fa reject solo in caso di problemi di comunicazione di rete non per il non 200 perché è gestito diversamente è sempre una promise resolved ok quindi salviamo syntax error dove è? pi 41 qui ho mangiato qualcosa no allora sarà che non è chiusa questa graffa c'è virgola dopo ah punto virgola grazie bravissimo ok benissimo allora a questo punto ovviamente non ho fatto nulla questo è un API io ho scritto una funzione funziona esattamente come prima se prima non c'erano errori in console quindi non ce ne devono essere adesso la chiamiamo quindi andiamo a fare quello che diceva il vostro collega cioè questa funzione l'abbiamo scritta vote answer la dobbiamo esportare vote answer ok così è già importata in app adesso chiudo quello della solution dove è andata? questa è quella giusta no è già chiusa allora in app lo devo usare ecco c'era increase score no? increase score e qui cosa fa? prende la vecchia map se l'id faccio score più uno no? e questo è il vecchio codice quello della visualizzazione adesso devo decidere che fare per fare la modifica anche su server vi dicevo prima abbiamo diverse opzioni facciamo la modifica su server e ricarichiamo ma l'utente non vede nulla quello che diceva il vostro collega prima come facciamo a fargli vedere qualcosa? oppure facciamo la modifica sull'applicazione e intanto al server e non diciamo nulla e preghiamo che vada tutto bene mi piace fino a un certo punto oppure terza opzione quella che abbiamo detto sulle slide facciamo la modifica nell'applicazione facciamo la richiesta al server diciamo che abbiamo fatto la modifica e poi ricarichiamo i dati dal server ok? così mettiamo a posto il meccanismo complessivo poi una volta che l'abbiamo messo a posto lo ricicchiamo per l'add update elite c'è una domanda? ma perché noi non mettiamo un valore ma noi mettiamo una richiesta upvote proprio per questo non ho scritto il valore perché il valore non lo possiamo sapere nel senso che in questa applicazione semplice sì perché siamo sempre solo noi che modifichiamo il valore ma il valore corretto lo saprà solo il server se voi pensate a quello che facciamo la prossima volta aggiungiamo più utenti più utenti che possono votare le stesse risposte se nel frattempo qualcuno mi ha votato la risposta io non posso dirgli qual è il nuovo valore perché io ho un valore non so c'era cosa c'è 10 16 16 se il calcolo lo faccio io dico valore 17 ma io non voglio che sia 16 io voglio che sia più 1 considerando tutto quello che nel frattempo è successo ok l'anno scorso uscirevamo un esempio peggiore che non aveva questa cosa per cui è importante questa cosa perché chi fa l'operazione sul client sarà penalizzato all'esame perché tra oggi e la prossima volta spieghiamo bene ripeterò mille volte sono applicazioni multi utente multi client quindi non possiamo perderci le operazioni che hanno fatto gli altri ok è vero che in questo momento stiamo facendo solo noi ma dalla prossima volta ci sono gli altri ci sono gli altri utenti ok quindi lato client non possiamo fare operazioni che sono di esclusiva competenza del server ok quindi noi non possiamo prendere questo valore e dire adesso ci scrivi 17 perché se nel frattempo avevano dato 5 voti altri questo valore non deve diventare 17 diventerà 17 temporaneamente fino a che non abbiamo la risposta del server che sarà 17 più 5 22 ok no la put la usa se lei ha una modifica che è definitiva nel senso che io voglio modificare il testo della risposta ok il nuovo testo deve essere quello indipendentemente da quello che hanno fatto gli altri se gli altri me l'avevano modificato io arrivo dopo e sovrascrivo quello che hanno messo gli altri quindi quella è una put ok più o meno non è convinto no no può modificare il testo però il testo ha una logica di aggiornamento diversa il testo non può essere la fusione di quelli che hanno fatto modifica a caso la put se no la post esatto quindi se il valore è un po' come lo stato se il valore non dipende dal valore precedente e quindi lo deve necessariamente calcolare il server può usare la put se no invece deve usare la post ok perché l'operazione non avrà lo stesso risultato se viene ripetuta ok bene mi raccomando è importante capire questa cosa perché noi quando correggo correggeremo io e il mio collega le applicazioni la prima cosa che facciamo apriamo il vostro ritmo e vediamo come sono fatte le API proprio ci sono queste API da come avete fatto le API abbiamo già mezza idea di come funziona l'applicazione no perché se c'è una put di uno score c'è già qualcosa che non va ok uno score o qualcosa che ha un significato equivalente quindi che deve dipendere dallo stato precedente come diceva il vostro collega questo è un esempio comunque faremo pratica da adesso fino a fine corso facciamo corso facciamo pratica su queste cose qua allora dicevo facciamo app usiamo l'approccio facciamo la modifica sul client chiediamo la modifica sul server alla fine ricarichiamo i dati del server e nel frattempo segniamo sul client che il valore è temporaneo ok quindi allora quello che ho fatto qui va benissimo set answer list ci sta ok punto e virgola e adesso chiamiamo la nostra API quindi dove era ok sì API punto ci sarà vota answer id non ho niente altro da dirgli perché farà più uno perché l'API è stata pensata per far solo quello punto punto den poi magari proviamo a fare qualcuno con la wait però adesso facciamo punto den quindi questa è la promise risolta tutto è andato bene response ok ho un valore non mi interessa il valore boh non mi interessa il valore devo scrivere una callback qui sempre quindi aperta e chiusa tonda non ce li toglie nessuno e poi e poi devo ricaricare che cosa la lista delle risposte ok la lista delle risposte questo è un po' macchinoso allora cerchiamo una soluzione temporanea quindi c'è qualcuno che carica le risposte si c'è API get answer by question id ok diciamo che prendiamo questo temporaneamente e lo metto qui dentro ovviamente non è bello adesso lo sistemiamo meglio ok quindi punto den e il catch ecco catch ci sarà un errore io eviterei console log li usati fino all'ultima volta io vi chiederei almeno come minimo di farvi una funzioncina handle error tanto questo codice ve lo lascio quindi noi ci creiamo una funzioncina che poi usiamo anche per tutti gli altri quindi function anzi dopo la use effect no prima l'ho messo prima no dopo dovrebbe fare lo stesso mettiamo la prima function handle error error e inizialmente noi scriviamo la stessa cosa ma perché ci tengo la funzione perché una volta che abbiamo messo a posto tutto il nostro codice poi se noi abbiamo voglia di mettere a posto che la gestione degli errori cioè di farli visualizzare abbiamo un unico punto handle error dove possiamo fare qualcosa e gestiamo gli errori di tutte le chiamate verso il server quindi toglieremo il console log e possiamo fare handle error ok handle error anche qui handle error ok e poi ci penserà quella funzione a decidere che fare formatiamo un po' meglio ok quindi api vote answer va tutto bene allora cosa faccio ricarico la lista delle risposte ok il set initial loading lo posso anche lasciare da parte per ora ok proviamo come sempre provate quando ritenete di avere una cosa che funziona provate ok ricarico l'applicazione va più caldo per far sparire le cose allora tab network cancelliamo così vediamo cosa succede ok è andato sì è andato quindi post request vote upvote response come vi dicevo non è che ritorna niente come ho scritto nel readme quindi correggerò il readme ritorna uno per dire che ha modificato una riga l'update il this changes che abbiamo scritto su server e poi dopo si è scatenato la get di get api questions 1 answers correttamente siamo entrati nel den ha ricaricato e mi ha caricato e mi ha caricato 17 adesso se io ricarico l'applicazione resta 17 questo è nel db se non vi fidate aprite il db browser ad aprire il file vedete ci sarà aggiornato il db ok non lo facciamo perché se no non finiamo più ok cosa ci manca e ci manca che io volevo vedere che questo numero era in fase di aggiornamento perché io schiaccio e vedete che si aggiorna subito e diventa subito 18 no e volevo vedere che fosse in fase di aggiornamento come faccio mi devo inventare qualche meccanismo visivo nelle slide avevo scritto tempo di fianco al numero non mi piace particolarmente io qui faccio così che è una soluzione accettabile anche per il vostro tema d'esame seconda di cosa state facendo vedere decidete un po' voi allora ho il gli answer component c'era la tabella questa è la riga di una tabella ok quindi la riga che in cui viene fuori data testo eccetera gli metto uno sfondo e gli metto uno sfondo di colore vario a seconda di quello che sto facendo così lo vedo visivamente questo sfondo sparirà quando sarà avvenuto il caricamento dei dati dal server questo l'ho già predisposto così non sto a scriverlo quindi ho aggiunto questo pezzo rispetto all'altra volta cioè io passo una una props dentro l'oggetto riga con i valori ok non è il componente è è l'oggetto che rappresenta i valori da mettere sulla riga e date e text eccetera e gli scrivo status e decido che added meno colora col success che mi sembra sia il verde se no c'è il giallo se no c'è il rosso ok queste sono classi di bootstrap che io uso nel class name sul tr così coloro tutta la riga ok per farle funzionare cosa devo fare bisogna che creo la proprietà status sulla riga che ho modificato mettendogli il valore che mi interessa e questo lo vado a fare qui già facevo un nuovo score posso semplicemente mettere un nuovo valore cioè una nuova proprietà dove è andata status l'ho chiamata status questo updated mi sembra che venga fuori il giallo ok allora riproviamo un po' lento bisogna che adesso riduca il ritardo sul server e dopo lo faccio adesso schiaccio il bottone la riga resta gialla per un po' e poi sparisce perché? perché è gialla subito perché io ho fatto una modifica col codice dell'applicazione qui set up server list immediatamente per dare il nuovo valore sperando che tutto vada bene e per segnalare all'utente che questo valore è provvisorio e ho messo questa riga gialla poi tutto il resto si svolge quindi API vote viene fatto il voto sul server si incrementa di uno e nel den ho ricaricato i dati dal server ricaricando i dati dal server mi viene ricreata tutta questa lista la answer list ovviamente senza più lo status updated che ho aggiunto solo per quella riga quindi se non c'è lo status updated qui ci sarà switch status status undefined status class rimane null il class name null non si colora nulla fine come sempre ok quindi si c'è domanda e succede che quando sparisce il giallo viene fuori un nuovo numero anziché 18 viene non so 21 perché altri hanno incrementato è proprio per questo che lo vogliamo un giallo per dire occhio guarda che sta succedendo qualcosa finché non sparisce guarda che non sei sicuro che tutto sia dato buon fine ok poi potete inventarvi qualche altro meccanismo potevate colorare il numero potevate farlo lampeggiare potevate aspettare a modificarlo non lo so potevate qualsiasi cosa basta che ci sia un meccanismo che comunichi all'utente che questa cosa è provvisoria ok la cosa più semplice era dare un colore di sfondo cioè una delle cose più semplici se no appunto lo fate diventare il numero giallo non volete farvi subito la modifica perché non vi sentite a vostro agio è anche una scelta si può dire ok giallo col vecchio numero aspetto il nuovo valore si può anche fare quindi di fatto anziché fare subito lo stato più uno io ti comunico solo che ho preso in carica la tua richiesta e poi arriverà una risposta si può anche fare forse forse è quello che succede più frequentemente nei siti vedete voi dipende dall'applicazione dipende da cosa ritenete sia utile fare ok allora benissimo io ho risolto il mio problema dell'update faccio un attimo il giro sul server vediamo di velocizzare un pochino c'era un per due se non sbaglio ecco answer delay ci mettiamo ok avevo il node mon si va bene allora c'è ancora una cosa che non mi piace tanto vedete che c'è questo den e ricarica i dati dal server quindi get answer by question.id cioè tutta la lista delle risposte ma c'è anche sopra e ci sarà in tutte le altre funzioni perché se abbiamo deciso che le facciamo così cioè facciamo l'aggiunta e ricarichiamo c'è la cancellazione e ricarichiamo e così via ci sarà da tutte le parti allora ovviamente numero uno se il codice è ripetuto è bene portarlo in una funzione va bene ok però noi qui non lo facciamo questo perché perché abbiamo una soluzione migliore perché noi ragioniamo in questo momento a un livello un po' più alto cioè quando è che abbiamo bisogno di ricaricare dal server abbiamo bisogno di ricaricare tutte le volte che riteniamo che i dati possono essere potenzialmente diciamo così sporchi cioè non aggiornati allora perché non pensare di farci uno stato che noi impostiamo e delegare a react di fare tutta questa operazione cioè dire guarda che l'applicazione è in questo momento in uno stato sporco no perché perché noi abbiamo richiesto un'operazione al server che non sappiamo come andrà a finire ok e quindi quando questa operazione è a termine vedi di ricaricare tutto quanto ok questa è una cosa che possiamo pensare di fare e ha senso fare perché perché abbiamo tante operazioni che vogliamo fare vogliamo fare la cancellazione in questa maniera l'aggiunta l'editing e tutte le altre operazioni come appunto appvote quindi aggiungi uno o qualsiasi altra cosa e ha senso farlo anche dal punto di vista dell'applicazione cioè è effettivamente uno stato dell'applicazione cioè l'applicazione in questo momento si trova in uno stato diciamo così sporco perché io non sono più sicuro di essere allineato col server in realtà non sarò mai sicuro perché non ho il server che mi notifica le modifiche però diciamo che io ho chiesto una modifica per cui sono sicuro che devo riverificare che il server sia allineato con lo stato dell'applicazione ok quindi proviamo ad andare a implementare questa cosa così che diciamo vediamo come potrebbe essere implementata e intanto discutiamo sul funzionamento della use effect ok quindi noi questa operazione l'abbiamo copiata giustamente dalla use effect che viene scatenata all'avvio all'avvio apro l'applicazione dipendenza array vuoto vuol dire che al primo render dopo il render viene fatto il caricamento quindi viene fatta scusate viene fatta la chiamata della callback che scatena i caricamenti ok e questo viene fatto all'avvio e basta giusto quindi io potrei se mettessi una variabile qui fatta apposta potrei fare in modo che questa operazione di caricamento avvenga non solo all'avvio ma anche durante il funzionamento dell'applicazione perché se no la callback viene chiamata solo all'avvio dell'applicazione e basta se io metto una variabile qui viene chiamata all'avvio sempre perché la use effect chiama sempre all'avvio al mount del componente in questo caso è app più tutte le altre volte che è necessario allora prova a farlo siccome questa variabile devo poterla controllare è uno stato ma vi ho detto anche prima abbiamo fatto un ragionamento per cui effettivamente è uno stato dell'applicazione la mia applicazione in questo momento è sporca allora cost la chiamo dirty perché in inglese fa tanto bello set dirty ok use state e inizialmente diciamo false poi ci ragioniamo è una variabile boolean sporco o non sporco la metto nelle dipendenze quindi questa callback verrà chiamata l'avvio al mount del componente più tutte le volte che dirty cambia e qui nel then non mi faccio più tutta questa operazione farò set dirty true ok cioè vado a dire che la mia applicazione una volta che ha ricevuto la risposta dal server per la modifica che ho richiesto si trova in uno stato sporco deve essere riallineata con lo stato del server metto il dirty true in maniera che cambi da prima e venga scatenata questa use effect proviamo se funziona e come funziona allora ho salvato adesso dovrebbe metterci meno forse si allora rischiaccio quindi rimane giallo adesso sparisce ok quindi se è sparito è perché è caricato dal server potete verificarlo qui sotto andate pure a leggere cosa abbiamo caricato abbiamo caricato get api questions 1 e get api questions 1 answers cioè esattamente quello che c'è scritto nella callback della use effect ok vi invito a provare a pensare a usare questa variabile il dirty quasi tutti i temi d'esame sarà necessario usarla perché perché è una cosa abbastanza semplice e intuitiva voi fate controllare la use effect da uno stato interno dell'applicazione che però effettivamente è uno stato dell'applicazione quindi non è che state introducendo uno stato come dire solo per funzionare la use effect effettivamente l'applicazione diciamo si trova in uno stato sporco come all'avvio si trova nello stato loading ok e questo fa sì che ricaricate i vostri dati ok quindi noi abbiamo finito l'increase score è a posto così proviamo si manca manca il set dirty false ha ragione ha ragione ha ragione il vostro collega giustamente ci dice il set dirty è rimasto true e magari ce ne accorgevamo al prossimo giro proviamo un po' no ah sì ok allora perché non è cambiato è rimasto true ho rifatto un aggiornamento era già true true è uguale a true e la use effect non mi viene chiamata bravissimo allora se avete questi dubbi andate poi a vedere quindi sarà deve essere questo lo state il quarto state è true allora set dove lo resettiamo lo resettiamo quando abbiamo finito l'operazione come fine initial loading set dirty false ok benissimo quindi riproviamo la nostra applicazione 22 deve sparire il giallo io qui lo vedo poco poi riproviamo ancora no allora c'è ancora qualcosa che non va sì si genera un loop no si genera piuttosto una chiamata in più che dovremmo aver visto qui sotto nel network si genera una chiamata in più perché il valore viene cambiato quindi la use effect pensa di doverla richiamare di nuovo la callback ricarica i dati a questo giro il false era già false rimane false e non viene più richiamato quindi non è un loop ma in effetti è vero una chiamata in più ok se non vogliamo questa chiamata in più possiamo mettere tutto dentro un if if dirty ok spostiamo chiudiamo a questo punto però perché funziona l'avvio devo mettere true ok perché ho messo l'if se entro dentro è false l'if mi manda via arrivederci ok adesso però c'era qualcosa che allora quindi qui siamo a posto 23 24 deve sparire il giallo aspetto che sparisca il giallo la chiamata viene fatta una sola volta quindi dovrebbe essere andato a posto poi faccio così 25 ok 25 occhio che se il server è lento adesso è artificialmente lento bisogna fare un po' attenzione che se l'utente continua a fare operazioni poi magari la visualizzazione si disallinea con quello che stiamo facendo ok quindi non è che sia un meccanismo perfetto per gestire questo problema no cioè se noi siamo nella condizione in cui non vogliamo far vedere qualcosa che non va bene all'utente cioè piuttosto di facciamo sparire tutto diciamo stiamo effettuando l'operazione un po' come quando pagate sparisce tutto per favore attendi però diciamo che non è esattamente il massimo in un sistema come dire in cui vogliamo fare un po' di come dire esperimenti noi e poi anche farlo funzionare al meglio cioè avere l'interfaccia abbastanza a disposizione soprattutto se il server è veloce no? cosa possiamo fare? possiamo fare la delete ok? facciamo la delete un attimo allora io adesso prendo l'api e le copio anzi facciamo così no qui solution c api e le copiamo qui sopra dovrebbero andare si ok quindi la delete non facciamo il lato api vediamo solo che vada la delete ecco la delete è facile da fare aperta graffa delete non ha un body non c'è da mettere content application json e così via e poi il resto della gestione degli errori una volta che l'avete fatto bene per uno potete riciclarlo per tutti usiamola nella delete che faccio qui nella delete la delete in realtà questo me lo toglie ma io se voglio far vedere che sta succedendo qualcosa non voglio toglierlo voglio marcarlo come da cancellare ok quindi faccio di nuovo un po' di copia e incolla se no non ce la facciamo più ma devo scrivere devo togliere quello di prima perché ecco vi ho fatto vedere la delete apposta per dire quello che c'era prima andava bene però io qui non voglio cancellare non è più una filter che me lo fa sparire una map che mi aggiunge uno status delete su quello che deve essere cancellato e poi vado a fare la cancellazione col set dirty come ho fatto prima ok proviamolo in realtà faccio bene ad aggiungere prima la add vabbè se ne cancelliamo uno pazienza proviamo diventa rosso e poi si ricaricherà e sparirà ok e la stessa maniera potete usare per fare la add e la edit ok ok facciamo un'ultima cosa vorrei farvi vedere come spezzare le due use effect all'inizio perché noi in realtà adesso stiamo ricaricando abbiamo quasi finito stiamo ricaricando sia la lista delle risposte ma anche la domanda ma sulla domanda non stiamo agendo per come motivo dobbiamo ricaricare la domanda è vero diciamo questo è di nuovo uno di quei trade off un po' da capire è vero che qualcuno potrebbe averla editata sul server ma ragionando in questo senso tutti potrebbero aver fatto tutto allora ogni volta che tocco una cosa ricarico tutto non è la maniera corretta di ragionare diciamo che quando agiamo su una qualche struttura dati quella la ricarichiamo e quelle che eventualmente dipendono da ma non quelle da cui dipende ok quindi proviamo a caricare un attimo il get question da parte ok diciamo che scriviamo un altro use effect faccio il copio in colla se no non ci sto più però ecco diciamo che io all'avvio parto col get question che metto da parte ok è la stessa cosa di sotto sono scritta da parte in una use effect a parte e quindi la carico solo all'avvio e la tolgo di qua perché a me interessa ricaricare le risposte non interessa ricaricare anche la domanda però come faccio a forzare la seconda use effect a caricare le risposte quando ho caricato la domanda allora va bene qui si carica e comunque perché la nostra applicazione è particolarmente semplice e l'ID lo conosco già io ce l'ho fisso ma se l'ID mi arrivasse dalla prima use effect come farei? dovrei aspettare che l'ID ci sia se all'inizio è un oggetto vuoto non la mi vieta di aggiungere una nuova dipendenza ok nella use effect ricordatevi non l'oggetto mi serve una proprietà dell'oggetto che vada bene allo scopo l'ID se non c'è l'oggetto è undefined e se c'è va bene no? perché poi non cambia proviamolo dovrebbe funzionare è un po' lento perché abbiamo messo questi rallentamenti apposta tutto quanto dovrebbe funzionare ok? quindi va bene spezzare le use effect se devono agire in momenti separati un'ultima parola cercate di non eccedere con le use effect nel tema d'esame perché le use effect si discostano dal modello di funzionamento di react c'è gente che arriva con 10 use effect tipicamente se avete 10 use effect il resto ha qualcosa che non va però diciamo che solo per le use effect non è che venite penalizzati se sapete spiegarle però avete creato un pasticcio di dipendenze tra le variabili che non finisce più e probabilmente ci sarà qualcosa che non quadra a forza di giocare nell'applicazione perché debagare tutta un'applicazione complessa è un po' complicato quindi avere due tre use effect tipicamente pure nello stesso componente che caricano pezzi diversi al suo senso avere use effect di qua e di là che dipendono da props di altri componenti e così via cerchiamo di evitarlo le ho viste all'esame ce n'è perché poi non ci capite più niente neanche voi passate un giorno a debagare questi use effect quando potete usarlo per fare una cosa più semplice più lineare e che rende anche meglio l'esame direi che se non avete dubbi o domande avete tutto quello che serve per il laboratorio come sempre non abbiamo finito ma vi metto online la soluzione completa faccio il commit di adesso così ce l'avete e poi potete provare a finirla e vedere come è andata a finire e ci vediamo martedì prossimo ok grazie